Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dall'A1, dove ci sono 4 km di coda per incidente tra Firenze Scandicci e Bivio con la variante di Valico, in direzione Bologna. Sempre in A1 si informa che l'area di servizio di Montepulciano Est, in direzione Bologna, è sprovvista di GPL. Sulla FIPILI code per viabilità esterna che non riceve in uscita la strassigna provenendo da Firenze. Sulla statale 1 Aurelia a scambio di carreggiata per lavori nel tratto compreso tra Fonte Blanda e Montiano, in direzione Grosseto. Sulla statale 3 Bistiverina a scambio di carreggiata per lavori tra i km 140 e 500 e 142 e 900 nei comuni di Pieve Santo Stefano e San Sepolcro. Muoversi in Toscana Info è in servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!